Donald, tu lo bevi il latte di rinoceronte? Cos'è? Me la domanda. Pensavo sapessi tu la risposta e io faccio solo le domande qui. Bene, possiamo proseguire allora. Ciao, io sono Ivan Taverniti, siamo a Mall e una nuova puntata di latte di rinoceronte. Con noi oggi c'è Donald, gioca, Editorial Director and of Innovation di RedEye e c'è anche Enrica Paltrinieri, il nostro docente di grafica e 3D. Immaginiamo di parlare a una platea di profani. Cos'è RedEye? In cosa consiste il tuo lavoro? Allora, RedEye è il primo magazine metaverso. Quindi immaginiamoci un magazine che è disponibile in bidimensione, quindi tramite desktop o mobile, e in più abbiamo l'innovazione che è praticamente il metaverso. Quindi nel metaverso abbiamo l'esplosione di elementi tridimensionali di quello che poi ci troviamo all'interno degli articoli. Donald, tu di cosa ti nutri per fare il tuo lavoro? Allora, di un sacco di, scusate, la domanda non so, è il nutrimento chiaramente. Dovrei dire di latte, di rinoceronte. Esatto, era lì che volevo arrivare, ma quella già è andata. No, perché sto pensando, cioè, lato innovazione, così, quindi comunque, boh, sì, non so come potrei spiegare questa cosa, tipo, continua ricerca, continua sperimentazione, continua news inerenti a questo mondo. Quindi prendi da varie fonti di ispirazione e poi provi a giocarci in qualche modo? Esatto. Posso tradurre. Esatto, 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 sì. Web 3.0. Noi siamo davanti a una grandissima innovazione. Che impatto avrà sulle nostre vite, in termini anche lavorativi, di interazioni? Allora, sicuramente quello che andrà a fare è un miglioramento costante di tutto il processo lavorativo, ma non solo, anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Perché Web 3.0 significa ownership, quindi comunque avere la proprietà di digital asset, ma non solo, che ti permettono di accedere a diverse cose che poi utilizzeremo quotidianamente. Quindi assolutamente è un'innovazione che porta a tanti vantaggi, secondo me. Sempre parlando a questa platea immaginaria di profani, che cos'è il metaverso? Come lo spiegheresti? Allora, il metaverso è un mondo virtuale, quindi è un mix tra AR e VR. Quindi augmented reality e virtual reality. Quindi è un mix tra queste due cose qua e quindi è uno spazio digitale dove tu, con un avatar o senza, puoi integrarti all'interno dello spazio che hai presente. Quindi è uno spazio proprio virtuale dove tu puoi fare un sacco di cose, sia lavorative che non, e estremamente interattivo e immersivo come esperienza. Perché uno pensa su io, il profano appunto, pensa al gioco, però se ne parla in realtà per applicazioni molto più serie. Esatto, soprattutto professionali, perché comunque per fare meeting di lavoro può sicuramente migliorare un sacco la resa, ma soprattutto anche lato design. Puoi proprio creare e disegnare con AR, quindi con realtà aumentata tramite visore, determinati oggetti o prodotti, interior, scarpe. Quindi ormai è uso comune. Ma come anche medico, soprattutto. A livello medico ormai viene utilizzato un sacco. In che senso, se puoi giusto specificarmi un po' di più? So che per fare, ad esempio, per gli studenti di medicina, per fare, ad esempio, delle simulazioni sulle operazioni, utilizzano strumenti di AR in metaverso. Molto interessante. Senti Donald, invece tu ti sei proprio preso una fetta all'interno di questo spazio con un progetto molto, insomma, in vista oltretutto. E niente, mi chiedevo se ci vorrei raccontare un po' della tua esperienza, anche in vista di qualcuno che vuole o vorrebbe anche attivare qualcosa all'interno del metaverso come propria attività. Allora, noi Red Eye appunto è il primo magazine che nasce in metaverso. Quindi è interessante perché abbiamo quindi, siamo partiti dalla nostra cultura che è legata un po' all'arte, alla moda, alla musica, al cinema, a livello proprio di ricerca e di conoscenza. E l'abbiamo traslata in un mondo virtuale, che è il metaverso. Quindi di base abbiamo un magazine dove è consultabile sia tramite mobile o comunque desktop, come anche in realtà aumentata, in realtà virtuale, quindi anche nel metaverso. Quindi facciamo una scelta, il processo editoriale funziona così, facciamo una scelta dei contenuti che abbiamo e li trasportiamo nel metaverso. Quindi in metaverso hai un'esperienza completamente immersiva dove i contenuti non sono più di bidimensionali immagini e foto e video, ma sono esplosi in sculture enormi dove tu puoi interagire con loro e puoi, come dire, approcciare il mondo come, cioè con una libertà totalmente differente. E non è più lo scroll bidimensionale che siamo abituati a fare in questo momento con i siti e con i social. Ti ci muovi. Ti ci muovi, esatto, quindi c'è un movimento effettivo che puoi fare, hai completamente libertà. E invece, restando appunto io, sempre quel profano a cui spiegare, un NFT cos'è? Allora, l'NFT è un digital asset che praticamente può essere qualsiasi cosa, in realtà sia digitale che non, che tu con un contratto che fai con la blockchain come tecnologia lo acquisisci, ok? Quindi hai questa ownership all'interno del tuo wallet e puoi fare accesso, comunque accedere a determinate piattaforme o esigenze particolari che puoi avere anche nella vita reale, non solo online. Allora, io invece volevo chiederti che utilizzo ha oggi l'NFT? Cioè come, in che cosa consiste praticamente, chi può attrezzarsi con un NFT? Allora, qualsiasi persona che ha un wallet può avere un NFT nel suo wallet e l'utilizzo che io trovo molto interessante al giorno d'oggi dell'NFT è che può permetterti di accedere a X cose legate alla vita reale e quotidiana che noi viviamo, soprattutto offline. Ad esempio abbiamo dei casi in cui tu comprando un NFT puoi accedere alla sneaker di collezione, come anche accedere a un evento particolare. Quindi in questo momento la chiave sta proprio nel creare la community Web3 tramite il tuo wallet tramite NFT, portando le persone ad averne per forza bisogno per accedere a qualcos'altro. Quindi appunto, come dicevamo, un evento, un prodotto specifico. E ti chiedo anche a questo proposito il wallet, perché mi sembra un aspetto fondamentale che distingue anche l'utilizzo tra Web 2.0 e Web 3.0. Ci puoi dire qualcosa in merito? Allora, è un wallet digitale che è molto semplice da poter creare e lo si connette a una mail di base, quindi comunque c'è un po' l'aspetto Web 2, ma poi quando si tratta di wallet effettivo è totalmente decentralizzato. E io trovo geniale questo aspetto, perché è la chiave di tutto quello che cambia da quello che abbiamo sempre fatto fino ad ora a quello che sta succedendo da ora in poi con il Web 3.0. Perché in questo momento noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa che vogliamo con il nostro wallet, quindi abbiamo un patrimonio o X quantità di denaro che possiamo utilizzare come vogliamo a livello di NFT, di comprare qualsiasi cosa che vogliamo online e non dobbiamo dipendere da qualcuno o un qualcosa, come è successo in passato. Specialmente il discorso da NFT, io trovo geniale che un creator possa avere un ricompenso in modo diretto da una persona all'altra, quindi in questo caso tu togli il ruolo centrale o comunque da intermediario del gallerista ad esempio, se vogliamo parlare di arte. Quindi trovo geniale questo approccio molto one to one. Metaverso e realtà virtuale, che cosa li accumuna e in che cosa divergono? Allora, li accumuna il lato estetico, nel senso che poi sembrano molto simili tra di loro, visto che stiamo parlando di uno spazio completamente immersivo e ricorda molto appunto il gaming che siamo abituati a vedere. La differenza sta nel wallet, cioè una volta che tu colleghi il tuo wallet, il sistema, quindi la piattaforma di base del metaverso è basata su una blockchain, che in molti casi è Ethereum, ma può essere anche un'altra criptovaluta, che è quello che fa la differenza. Quindi comunque dove sta basata la piattaforma su appunto se è blockchain oppure no, perché se non è blockchain allora è un mondo virtuale, gaming e altrimenti stiamo parlando proprio di Web3. Ma si può dire che la realtà virtuale è più autoreferenziale, quindi del metaverso, il metaverso è più relazionale? Sicuramente, perché comunque poi il wallet ti permette poi di fare un'interazione tra gli utenti o tra te e uno store online, quindi assolutamente sì perché poi anche all'interno dei metaversi abbiamo ad esempio da una parte abbiamo quelli che si chiamano play to earn, che sono quelli legati proprio al gaming con una community ben salda e ben comunque interattiva. Invece dall'altra parte abbiamo un sistema completamente diverso come ad esempio special che ti permette di customizzare lo spazio del metaverso in base alle tue esigenze. E' spesso legato a eventi o mostre o anche eventi musicali, exhibitions, qualsiasi tipo di... Ti chiederei in che modo questa figura che sta venendo sempre meno nel metaverso a livello proprio di mercato dell'arte, della figura dell'intermedio del gallerista, come cambia l'approccio che un artista emergente potrebbe avere con questa piattaforma? Cioè quali potrebbero essere i pro e i contro della mancanza di questa figura per tutti i giovani artisti che vogliono approcciarsi al metaverso? Allora diciamo che in qualche modo il gallerista viene sostituito dal marketplace, perché in questo momento qualsiasi persona può andare in un marketplace e con un wallet vendere i propri NFT, che di base stiamo parlando di arte ma non solamente. Quindi quello che sta succedendo è proprio questo passaggio e il rischio è che è difficile effettivamente in questo momento dare un giusto valore a quello che è l'arte o meno, perché non ci sono più dei canoni che prima venivano rispettati e definivano effettivamente cosa è arte e cosa no. In questo momento qualsiasi cosa lo può essere, perché poi si basa tutto su un concetto in questo momento, soprattutto anche con l'AI, quindi è un tema abbastanza delicato e vediamo un po' che tipo di evoluzione ci sarà di questo, però come tutte le cose ha i suoi pregi, i suoi difetti, nel senso che il difetto appunto è proprio questo, di fare fatica, come dire, soprattutto anche da un collezionista, a capire chi è effettivamente l'artista a cui dare un valore e a poter sostenerlo anche economicamente, perché stiamo parlando di quello, comprare qualcosa poi tu lo sostieni, perché ti piace molto il suo progetto NFT. Dall'altra parte, chi non ha avuto la possibilità di farlo con un gallerista, perché ha trovato sempre limitante questo, riesce a farlo. Ad esempio pensiamo anche a persone disabili, banalmente, che non possono muoversi da un posto all'altro, comunque hanno difficoltà motorie e di spostamenti, stesso discorso è metaverso, ogni persona ha il suo avatar e può muoversi all'interno dello spazio e questo è emozionante, secondo me, molto bello. Parlando di intelligenza artificiale, di AI, alcune delle domande anche di questa intervista sono state proprio generate da un'intelligenza artificiale, questo è un segreto che ti sto svelando in questo momento, Ma tu pensi, perché poi quello poi credo che è l'incubo, in qualche modo, di tutti, che si arrivi, si possa arrivare a un mondo in cui addirittura prendano talmente il controllo queste tecnologie da temere addirittura per l'umanità, in qualche modo? Sì, sì, sì. Allora, dubito fortemente che arriviamo a questo livello, nel senso che siamo ancora ben lontani da questo, però, ad esempio, una reference molto interessante su questa tematica è sicuramente 2001 di Senno lo spazio di Kubrick, film del 68 che è incredibile, cioè ci fa vedere proprio questa, come dire, mancanza di fiducia che c'è tra l'umano e la macchina, quindi questa costante differenza tra i due modi di pensare, di ragionare che poi porta ovviamente inevitabilmente a conflitti, però al di là di quello io vedo tanto potenziale nel poterci agevolare in tanti ambiti, soprattutto lavorativo, quindi non lo vedo come minaccia, diciamo, in questo momento. Forse la paura, semmai, deve agire come limite, no? Per arrivare a un certo punto, a porre dei limiti. Sì, siccome tutte le cose, ovviamente, poi noi umani in primis dobbiamo utilizzare tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, soprattutto quella innovativa, con i giusti modi che bisogna, perché ovviamente poi è sempre l'umano che è detta legge in tutto quello che abbiamo, quindi comunque è importante innanzitutto partire da noi e poi ovviamente dobbiamo vederlo come uno strumento di aiuto, ecco, non come una minaccia. Parla tutti infatti dell'intervento umano sull'intelligenza artificiale e delle leggi, proprio quello che ti avrei voluto chiedere proprio adesso, è dell'intervento del garante per la protezione dei dati personali, no? Che, come saprai, ha disposto proprio anche un limite all'utilizzo, in particolare in Italia, di chat GPT, insomma dell'intelligenza artificiale, per cui, secondo te quali sono le ragioni di questa limitazione? Come l'hai capita tu, ecco? Allora, tante questioni, ma non solo legate un po' a OpenAI come piattaforma o comunque come società, ma anche altre, è principalmente la regolamentazione che manca, perché comunque ci sono tanti problemi legati ai copyright, da quello che si crea tramite l'intelligenza artificiale, quindi in questo momento abbiamo proprio bisogno di una regolamentazione che possa avere delle leggi più definite su quello che è l'utilizzo di questo tipo di strumenti. Allora, io invece vorrei subito parare verso un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello della creatività, no? Creatività anche a livello di settori lavorativi, nel senso che adesso ci sono delle creatività che vengono spese in un certo modo a livello di proprio impiego lavorativo, mi chiedo che fine faranno queste figure creative? Sono coerenti con il sistema che sta attivando l'intelligenza artificiale, tutto questo, insomma, approccio molto ampio che c'è stato ultimamente? e secondo te quali professioni spariranno? E poi mi prometto anche di farti un'ultima domanda, che è la sopravvivenza della creatività umana nell'intelligenza artificiale, a me è una cosa che preoccupa molto, tipo, no? Cioè mi fa stare in pensiero comunque. Sì, sì, sì. Allora, io in questo momento, appunto, come dicevamo poco fa, vedo l'intelligenza artificiale o comunque in generale Web3, quindi tutta questa innovazione tecnologica come supporto alla nostra creatività e non tanto qualcosa che ci può rimpiazzare o comunque può sostituire completamente la mente umana e la creatività. Perché ci tolgono probabilmente la parte un po' più faticosa e manuale, macchinosa, esatto, che viene appunto in questo momento sostituita. Però, per quanto riguarda proprio, non lo so, ad esempio, visto che mi dicevi di ruoli che pensi che possano essere un po' più a rischio, ci vedrei ad esempio, probabilmente persone che magari si occupano proprio nello specifico, non so, di post-produzione. Perché comunque con l'AI in questo momento, con dei prompt, anche con l'ultimo aggiornamento di Adobe, ad esempio, avremo una modifica molto chiara e veloce di quello che abbiamo bisogno. come anche, ovviamente, ruoli un po' più tecnici. Però tutto quello che è creatività non verrà sostituito assolutamente. Cioè, in questo momento abbiamo ancora bisogno dell'uomo, cioè dell'umanità proprio che possa definire e dare una direzione. Cioè, siamo ancora ben lontani dal sostituire l'umano e in ogni caso non succederà. Perché noi abbiamo l'emozione. Cioè, ci differenziamo proprio per quello, quindi assolutamente non vedo nessun tipo di minaccia di questo tipo. Sono contento di essere d'accordo con te su questa cosa. Sono anche contento di aver fatto studi più umanistici che tecnici, in ogni senso, però, questo perché in realtà, per quello di cui mi occupo, mi serve. Però forse, in futuro, è vero, i tecnici saranno sempre meno, più affiancati, no? Probabilmente dalla tecnologia, quanto invece quella parte lì, la cultura, e anche il legame tra la cultura e la vita di tutti i giorni. È qualcosa di... È un'elaborazione intellettuale per la quale, da quello che ho potuto praticare adesso, di questa intelligenza artificiale, mi pare che siamo ancora lontani. Loro non gestiscono, sanno più cose di noi, perché in un attimo ottengono informazioni che noi ci metteremo molto di più, però poi svilupparle... Esatto. Tant'è che una domanda dei nostri allievi oggi andava un po' in quella direzione. Esatto. È grazie alla cultura, poiché io ottengo dei prodotti anche più interessanti. Esatto. A farli ci pensa di più la macchina. Esatto. Ma per idearli... Esatto, sì, sì. Anzi, penso proprio che sia il momento più importante dove noi dobbiamo mettere la nostra creatività. Quindi assolutamente non sta venendo rimpiazzata, ma anzi serve che venga fuori, perché è proprio quello che serve in questo momento. Perché con la tecnologia, purtroppo, quello che succede è che poi l'umanità si adagia sempre di più, perché pensa che ci sia sempre qualcos'altro, qualcun altro che possa farlo per lui. Invece in realtà assolutamente è importante che ci sia e anzi ci sia sempre un rinascimento, no, di creatività e di cose nuove. Parlavamo dei nostri studenti, appunto un po' già nella tua risposta, ma com'è andata dal tuo punto di vista? Ho già incontrato i studenti di 3D, di grafica, di animazione, di gaming. Dal tuo punto di vista com'è andata? Ho visto, ho riscontrato un grandissimo interesse che mi ha lasciato colpito, soprattutto anche con le domande abbastanza tricky, cioè abbastanza delicate, sia per quanto riguarda il tema legato un po' al copyright, che poi è legato alla creatività, come ne parlavamo adesso, quindi sicuramente c'è grande interesse e mi piacerebbe approfondire un sacco con loro tutte queste tematiche, quindi sono molto contento che c'è questo scambio, perché poi quello che, una delle cose più belle secondo me di questo è proprio lo scambio di idee, le opinioni, quindi comunque poter anche assieme fare un percorso di crescita professionale, ma non solo, perché poi si, è un continuo dialogare e chiedersi... Beh, tanto oggi è stato un primo incontro, per cui spero che ci sarà modo, penso che potrai soddisfare questo desiderio. C'era anche tu oggi, com'è andata per te Enrico? No, per noi, noi abbiamo un grande punto di domanda a tutti quanti, secondo me, cioè i miei studenti vengono qua, si iscrivono a 3D, che è comunque una facoltà molto sfidante, no? per fare tutto, immagini, video, eccetera, eccetera, poi si trovano davanti un'intelligenza artificiale che fa tutto e molto bene, anche per cui secondo me... Sì, c'è un po' di... Cioè, c'è un po' di grande attrazione, di grande timore, no? Quindi è un po' un mix. Probabilmente si deve solo capire che utilizzo si può fare, ma credo anche che nascerà un incrocio di tecniche, sicuramente, quindi 3Dista avrà dei vantaggi nel lavorare sicuramente, con l'intelligenza artificiale, tanto che c'era già venuta un'idea prima con i ragazzi mentre parlavamo, ma no, potremmo fare, quindi... Invece io ti chiedo, che consiglio vorresti dare agli studenti che vogliono approcciarsi al web 3.0? Allora, innanzitutto, sperimentare, cioè buttarsi e provare a fare tutto quello che la tecnologia in questo momento ci offre di fare, perché è l'unico modo per imparare, perché comunque nasce tutto quotidianamente, ogni giorno nasce una piattaforma nuova, un tool nuovo, che ti permette di agevolare un sacco il tuo lavoro, quindi di essere i primi. Seconda cosa, di essere sempre lì pronti a curiosare e imparare da tutto quello che sono un po' le novità legate a questo mondo web 3, perché ogni giorno ci sono almeno 10 news diverse, quindi sapere dove magari fare la ricerca giusta per poter essere sempre sul pezzo, con i tempi. Grazie. Grazie mille a voi. Non mi resta infatti che salutarci a questo punto e ringraziarti Donald, ringraziare anche Enrica, chiaramente, per essere stata con noi, sono molto interessante, grazie ancora e ci rivedremo, penso, allora. A voi, grazie mille, anche io. Grazie a voi.